Natale Capodanno, tempo di ferie che non sempre fa rima con tempo del turismo. E quanto stanno vivendo gli alberghi pesaresi in queste festività? Prenotazioni che non sono decollate, disdette più frequenti e una quarta ondata della pandemia che si sta portando via un po' di voglia di vacanze. Tematiche emerse all'Hotel Alexander Museum Palace di Pesaro in occasione della presentazione del consiglio direttivo dell'APA Hotels, Associazione degli Albergatori, da quest'autunno presieduta da Paolo Costantini dopo otto anni di presidenza di Fabrizio Liva. Disdette in questo momento si parla nell'ordine del 15-20%, così come siamo allineati ai dati nazionali che sono usciti oggi, soprattutto per il periodo dell'ultimo dell'anno. Alcuni alberghi hanno deciso comunque di tenere chiuso per il periodo delle feste, e quindi la situazione è quella un po' di attesa e di guardarsi attorno a cosa sta succedendo. Le prenotazioni sono sostanzialmente ferme e quindi il tema è non avere disdette. Alberghi chiusi, alberghi lontani dall'essere pieni, ma alberghi che guardano al 2022 con fiducia. Le prospettive sono tendenzialmente buone. Siamo in un momento difficile, ovviamente il Natale e le festività sono un momento, come si sta vedendo, come si vedono i dati ultimamente, molto difficile, però per un 2022 c'è una prospettiva di ripresa, almeno nella volontà delle persone di tornare a viaggiare, di tornare in vacanza e di essere un po' più leggeri rispetto al momento. Certo che tutto dipenderà da come andranno queste feste, i prossimi mesi e da quello che succederà poi a livello della pandemia. La volontà nelle persone e soprattutto nelle strutture ricettive che ad oggi sono pienamente pronte ad accogliere i turisti comunque in sicurezza, ci dicono che ci sarà una ripresa. Poi sarà tutta da vedere per quello che succederà nei prossimi mesi. Prospettive ma anche criticità da affrontare. L'Assemblea di APA ha affrontato, alla presenza dell'assessore al turismo di Pesaro Daniele Vimini, tematiche come l'erosione del litorale e il ripascimento delle scogliere, ma soprattutto il tema delle garanzie sugli indirizzi di spesa della tassa di soggiorno. Dunque la tassa di soggiorno per noi è un tema molto presente. A Pesaro, solo a Pesaro, andiamo dagli 800 al milione di euro in previsione per il prossimo anno. Proprio questa sera abbiamo voluto chiedere all'assessore Vimini dove vengono spese queste risorse, perché sono risorse che a nostro avviso devono essere spese sul turismo e sulla ricettività.